Prendersi cura della vita del fratello, farsi carico dell'estraneo fino ad amare il nemico. Papa Francesco ribadisce i principi dell'Evangelium Vitae di San Giovanni Paolo II, è partecipante alla trentesima conferenza internazionale organizzata dal Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari dedicata alla cultura della Salus e dell'accoglienza al servizio dell'uomo e del pianeta. Proprio nell'enciclica, sottolinea il Papa, si rintracciano gli elementi fondanti della cultura della Salus, accoglienza, compassione, comprensione e perdono. Atteggiamenti soliti in Gesù che avvicinava i malati, i peccatori, gli stranieri e che invece oggi, evidenzia Francesco, sono lasciati da parte. La cultura dello scarto, afferma, non è di Gesù, non è cristiana. È invece nella vicinanza all'altro anche al nemico che si supera questa cultura che accetta o rifiuta gli uomini in base a canoni di efficienza. Il farsi prossimo, poi, implica anche rispetto per il creato, lavorando per una conversione del cuore al Vangelo della Creazione, facendosi interpreti del grido per la dignità umana che si eleva soprattutto dai più poveri ed esclusi, come molte volte sono le persone ammalate e sofferenti. Il prossimo giubileo della misericordia è l'occasione, sottolinea il Papa, perché questo grido possa trovare eco sincera nei nostri cuori, diventando canali e testimoni della misericordia. Infine, l'invito del Papa è ricordare i danni che vengono dal degrado ambientale, anche alla salute dei più piccoli colpiti da malattie rare.